Eccoci bentornati, in questa lezione parleremo dei link e di quanto siano utili all'interno di Google Presentazioni. Cominciamo subito. Prendiamo la prima diapositiva che vi ho mostrato anche in precedenza e vediamo tutti i link nascosti che ci sono. Intanto partiamo dallo sfondo. In realtà, come vedete qua in altro, diciamo in ogni diapositiva ne apro una nuova per farvelo vedere meglio. Se apro una nuova diapositiva neutra, bianca, posso agire subito sullo sfondo e per esempio cambiare colore. Facciamolo diventare giallo, ok? Se torno alla mia diapositiva di partenza e premo cambia sfondo, proviamo a cambiare colore, mettiamo anche qui giallo, in realtà vedete che non cambia niente. Perché? Perché in realtà sullo sfondo ho sovrapposto un riquadro. Ecco, vedete? Se lo sposto viene fuori lo sfondo giallo scelto in precedenza. Perché ho inserito un riquadro? Perché al riquadro posso, in qualche modo, collegare, nel riquadro posso inserire un collegamento ipertestuale, cioè un link. E lo vedo da qui. Inserisci link. Ok? Lo seleziono di nuovo. Vedete? Questo è il link che è applicato al mio riquadro di sfondo. A cosa linka? Alla diapositiva numero 1. Proviamo a cambiarlo. Link. Diapositive di questa presentazione. Diapositiva numero 1. Ok? Ora, questa diapositiva, a differenza di quanto vi ho detto precedentemente, non aveva il titolo in quanto è la numero 1. Ok? Perché ho linkato la diapositiva numero 1? Per evitare l'avanzamento indesiderato quando ci vado a cliccare sopra. Ok? Proviamo a spostare lo sfondo e vediamo cosa succede se ora invece vado a cliccare sullo sfondo giallo. La diapositiva avanza a quella successiva. Per farvelo vedere meglio, tolgo questa di prova. Lo mostro nuovamente. Vedete? Allora, questo è il riquadro che è linkato alla diapositiva numero 1, cioè a questa diapositiva di partenza. E se ci clicco sopra non fa scorrere la diapositiva, non passa a quella successiva. Ma se vado sullo sfondo, scorre. Perché? Perché sugli sfondi, purtroppo, non possiamo inserire link. Vedete, se ci vado sopra, faccio tasto destro, non mi viene fuori nel menu la possibilità di inserire un link. E nemmeno andando qui. Quindi, la prima cosa, il primo contenuto extra che ho importato e incorporato nella mia presentazione, è un riquadro. Come faccio a fare un riquadro? Semplice, con inserisci forma. E qui ci sono le forme. Per esempio, prendo un rettangolo, lo metto qui. E poi ci posso scegliere, ovviamente, il colore di riempimento. Ok? Cancello questo rettangolo. E, scusate, dopo che ho creato la mia forma, ovviamente, se faccio tasto destro, eccolo qua, posso utilizzare lo strumento link per aggiungere un collegamento ipertestuale a qualche, o a un indirizzo web esterno o a un'altra diapositiva della nostra presentazione. Ok? Quindi, già qui, già con questi due elementi, l'uso delle forme e l'uso dei link che linkano alla diapositiva stessa, avete capito come realizzare il meccanismo che serve a evitare lo scorrimento automatico e indesiderato delle diapositive. Ok? A questo punto andiamo a vedere gli altri oggetti presenti nella nostra prima diapositiva. abbiamo qui una casella di testo, alle caselle di testo possiamo, sapete già che possiamo, aggiungere un link a un testo, cioè, ve lo faccio rivedere, apro una nuova diapositiva di prova, ci scrivo prova collegamento, posso aggiungere un link proprio alla stringa testuale prova collegamento, usando, usando, inserisci link, e qui ci metto per esempio, diapositiva ultima, ok? Faccio vedere in modalità presentazione, se clicco su prova collegamento mi va all'ultima diapositiva, ok? e posso però aggiungere anche il link a un'intera casella di testo, non solo alla stringa di testo effettivamente digitata, la casella intera è tutto questo riquadro azzurro che vedete, quindi posso aggiungere anche il link in questo modo, mettiamolo, linkiamolo anche questo all'ultima, ultima diapositiva, eccolo qua, ok? Avvio Ecco, avete visto, ve lo mostro di nuovo, posso, più o meno la casella di testo sappiamo che ha queste dimensioni, se ci clicco, avete visto, si è evidenziato e mi va all'ultima, all'ultima diapositiva. Quindi, possiamo aggiungere collegamenti ipertestuali a forme, caselle di testo e testi, ma non solo, possiamo anche aggiungere collegamenti ipertestuali alle immagini, chiaramente questa è un'immagine, e se ci clicco, ecco il suo collegamento ipertestuale che posso cambiare, il suo link, posso per esempio mandarlo sempre a ultima diapositiva, ok? Entro in modalità presentazione, clicco e sono andato all'ultima, vedete? Clicco sulla foto e vado all'ultima. Però, io non voglio andare all'ultima, voglio rimanere sulla mia diapositiva che contiene la foto, ok? Quindi la diapositiva numero 1. Quindi anche in questo caso, per evitare lo scorrimento automatico, metto un link alla slide stessa, in questo caso diapositiva 1, ok? E così, cliccando sulla foto, non scorre. Vi faccio vedere cosa accade se rimuovo il collegamento ipertestuale, il link. Lo rimuovo, in questo modo vedete, ora non c'è più. Se faccio avvia presentazione e clicco sulla foto, scorre. Quindi il trucco definitivo per evitare l'avanzamento automatico è quello di linkare tutti gli oggetti presenti in una diapositiva, siano essi immagini, forme, testi o caselle di testo, linkarli alla diapositiva stessa che li contiene, ok? Quindi in questo caso, per ripristinare il mio meccanismo, devo inserire di nuovo il link alla diapositiva 1, ok? Anche qui, vedete, linka la diapositiva 1, anche lui linka la diapositiva 1, l'unica cosa che non linka la diapositiva 1 è proprio il pulsante che voglio usare per lo scorrimento, che in questo caso va alla diapositiva successiva, ok? Quindi, vedete quante cose ci permettono di fare i link. Ci permettono anche di importare risorse multimediali esterne. In questo caso, questa è una foto che ovviamente ho trovato sul web. Come posso importare le immagini all'interno della mia diapositiva? Semplice, vado nel menu inserisci, immagine, posso scegliere di caricare dal mio computer, cercare direttamente sul web, in Google Immagini, direttamente in questa finestra di esplorazione interna a Google Applicazioni. Posso importare direttamente una risorsa dal mio Google Drive, oppure posso importare l'immagine attraverso il suo indirizzo web, quella che si dice tramite URL, qui mettiamo l'indirizzo web, ok? Altra cosa molto utile in Google Presentazioni è la possibilità di, ve lo faccio vedere su una diapositiva vuota, tolgo queste caselle, è la possibilità di incorporare un video, cercandolo o direttamente su YouTube, oppure tramite l'indirizzo, quindi l'URL del video già trovato su YouTube, perché magari lo abbiamo cercato anche al di fuori di Google Presentazioni, oppure importare direttamente qualcosa dal nostro Google Drive. scelgo il video che voglio importare, lo posso ovviamente centrare, eccolo qua, posso fare tutta una serie di operazioni sul formato, quindi, per esempio, decidere da che punto fallo partire, fino a dove farlo arrivare, disattivare l'audio, e posso ovviamente agire anche sulle dimensioni della finestra, e, cosa molto interessante, se avvio la mia presentazione, posso visualizzare, posso vedere il video all'interno della presentazione, ok, senza uscire, senza dover aprire un'altra finestra del browser, ok? La cosa, l'unica controindicazione all'uso dei, controindicazione per modo di dire, diciamo, l'unica controindicazione all'uso dei video all'interno delle presentazioni interattive, è che i video non accettano collegamenti ipertestuali, vedete, se vado in inserisci, la voce del link è oscurata, non posso, quindi, abbinare a questa finestra un collegamento ipertestuale, come, invece, potevo fare con le foto. Fortunatamente, però, se torno in presentazione, lo vedete, se clicco sulla finestra del video, la, diciamo, la diapositiva non scorre a quella successiva, mentre, invece, se clicco sullo sfondo, sì, perché non ho messo un, diciamo, un riquadro, un falso sfondo che, a fare, da, diciamo, da parafulmine, dal link alla stessa, alla stessa slide. Però, fortunatamente, anche se vado a cliccare sul corpo del nostro video, sulla finestra video, la, la, la diapositiva non scorre, e quindi, posso, cioè, possiamo inserire tranquillamente dei video all'interno delle nostre storie interattive, perché se uno, comunque, ci clicca sopra accidentalmente, questi video, comunque, non fanno andare avanti la, la presentazione, ok?